Ciao ragazzi, mi chiamo Giulia e sono una laureanda in Biotecnologie Molecolari e Industriali e da poco ho intrapreso un percorso di tesi interno presso il Laboratorio di Biotecnologie Animali e Acquacultura della professoressa Terova. Dopo aver conseguito una laurea triennale in Scienze Biologiche presso l'Università di Napoli, ho deciso di continuare nel campo delle biotecnologie e dopo aver valutato diverse università a livello nazionale, ho deciso di iscrivermi all'Insubria. Prima di tutto per l'offerta formativa, i servizi e la presenza di laboratori didattici altamente formativi, ai quali aggiungerei, cosa che ho potuto constatare durante la mia esperienza, l'alta competenza degli insegnanti e la loro dedizione verso noi studenti. Infine, tra i diversi aspetti positivi, aggiungerei la cosa più importante e cioè che questa magistrale ci permette di avere un'ampia prospettiva sul mondo del lavoro, dandoci la possibilità di scegliere tra diversi settori e diversi campi che non riguardano soltanto la ricerca. Infatti l'Insubria crea un collegamento diretto con le numerose aziende su tutto il territorio.